Antonio Iorio Uomini e donne, Antonio Iorio torna a far parlare di sé.Antonio Iorio è sempre stato uno tra i personaggi più discursi di uomini e donne, l'uomo, attualmente, è fidanzato con Anna Maria, donna conosciuta all'interno del programma della Decode, i due semblano essere davvero felici.Punto pare abbiano trovato la serenità e la tranquillità che tanto agoniava, Antonio era sparito dalle telecamere da un bel po' di tempo Adesso, Iorio, è voluto tornare alla parica facendo una confessione inaspettata nei confronti della dama torinese Gemma Galgani, Uomini e donne, Antonio le parole inaspettate verso Gemma Galgani.Infatti, nel corso di un'intervista è liberato di nutrire una profonda stima nei confronti della dama Iorio, a suo parere, infatti, si tratta della persona più vera e sincera di tutta la trasmissione Della sua opinione non sembra essere, naturalmente, l'opinione scattiva e cipollare.La donna non perde occasione per mostrare costantemente tutto il suo disprezzo e la sua scarsa stima nei confronti della dama Ad ogni modo, Antonio ha confessato di reclutare Gemma l'unica donna andata nel programma di Maria De Filippi per trovare davvero l'amore della sua vita, la sorte tuttora, si sta rivelando un po' beffarda nei suoi confronti, impedendole di realizzare il suo più grande sogno Giovan, riuscirà, infatti, a trovare fin da chi?